Del giorno 10 giugno 2024, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Fogliano della Chiana, il signor Jacopo Franci. Jacopo Franci è il nuovo primo cittadino di Fogliano, con il 61,5% dei voti, vince in tutte e otto le sezioni comunali. Battuta la sfinante, Laura Paolini ferma al 38,5%. Franci, vice sindaco uscente, era sostenuto dalla lista Scengo Fogliano. Siamo felici e emozionati, avevamo visto che il clima poteva essere positivo ma non ci aspettavamo così positivo. Oltre il 60%, vincere in tutte le otto sezioni che non succedeva da un po' di tempo, quindi il surplus di questo progetto è stata la squadra. L'abbiamo messo su una squadra fantastica sia dentro la lista sia della squadra tutta attorno al progetto e quindi siamo veramente felici. Ci sono tanti cantieri da continuare, penso in primis al nostro teatro che è da vent'anni che i foglianesi aspettano di aprirlo e quindi dobbiamo già lavorare su quello, sulla nuova scuola, sul Polo 06 e poi tante altre cose che questo programma ha messo in campo con Scengo Fogliano e che ora diventeranno parte dell'amministrazione. Buon ringraziamento veramente a tutti i foglianesi perché credo che questo progetto abbia comunque tenuto insieme il tessuto civico cittadino. Quindi ora dobbiamo lavorare insieme, non esiste più chi ha votato una parte, chi ha votato un'altra. Siamo tutti foglianesi e dobbiamo lavorare per migliorare il nostro paese.